Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi è un video un po' strano, un po' particolare che tento di spiegarvi. Qualche giorno fa su Instagram mi lamentavo del fatto che mi sono resa conto che negli ultimi mesi almeno negli ultimi sei ho ordinato oppure ho ricevuto una valanga di novità da parte delle case editrici ma soprattutto io ho acquistato tanti libri, proprio tanti e quindi insomma si sono iniziati ad accumulare perché tendenzialmente io quello che non leggo lo vendo oppure quello che ricevo dalle case editrici che però io non leggo lo dono in biblioteca e tutto il resto diciamo che è iniziato ad accumularsi in una maniera che io non riesco più a controllare in questo momento e quindi volevo raccontarvi un po' i miei ambiziosi piani di cose da smaltire nei prossimi mesi, vedrete un bel po' di narrativa ma soprattutto vedrete un bel po' di saggi e che è colpa mia totalmente, io di solito cerco di non comprare quando so che ho delle cose da smaltire però tra offerte oppure magari anche case editrici che mi mandano cose molto gentilmente faccio un po' fatica e quindi mi sono trovata adesso ad essere un po' sommersa che a me fa stare molto a disagio, cioè quindi è un po' una condivisione di sensazioni questo video è totalmente a caso, è una cosa che non faccio mai peraltro quindi volevo raccontarvi insomma che cosa ho intenzione di leggere, che cosa ho intenzione di smaltire soprattutto perché tutti questi titoli iniziano ad essere tanti e a me dispiace tantissimo perché non ve ne ho ancora potuto parlare e che io voglio leggere e smaltire perché davvero ne ho troppo e in questo caso vedrete tante cose che hanno a che fare con narrativa generica narrativa fantasy nel suo specifico e dintorni ovviamente gotico, delle cosine veramente disparate, molto interessanti e altre cose invece sono saggi, letteratura femminista, saggi di sociologia e non solo sulla sostenibilità, anticapitalismo eccetera cioè vedrete un bel melting pot di ciò che passa nella mia testa tutti i giorni quindi io direi di iniziare perché partiamo direttamente ci scaviamo subito il reparto femminista chiamiamolo così perché ho davvero un bel po' di titoli da farvi vedere sono molto curiosa quindi adesso ve li racconto tutti è una tbr, è un book haul, abbiamo detto book haul su questo canale boh è una cosa a metà perché in realtà questi sono i miei ambiziosi piani per i prossimi mesi ma soprattutto per il periodo di natale dove io effettivamente ho un po' di tempo per riposarmi e il motivo per cui non sono stati letti è fondamentalmente che io lavoro troppo e pur lavorando troppo c'è anche il canale da mandare avanti insomma ogni tanto volete anche vedermi io non capisco veramente questa cosa per cui io ho un canale con gente che mi segue no vabbè sto scherzando ovviamente però insomma gli impegni sono tanti il tempo per leggere si riduce molto spesso e quindi mi dispiace molto quindi passo intanto al reparto diciamo femminista partiamo da quello poi dopo ci scaviamo anche il resto allora da cosa iniziamo? iniziamo da due cosine molto belle che mi sono state mandate dalle case editrici parto da questo perché se voi avete seguito tutti i Feminist Friday in particolare Antologica c'è una puntata di Antologica cioè la seconda che per me è di vitale importanza perché io ho un rapporto specialissimo con questa autrice in questo caso infatti parliamo di Elsa Morante nel ripozza mi ha mandato Elsa Morante una vita per la letteratura che è una sorta di biografia ma anche tematica e saggistica all'interno insomma una riflessione anche sulla figura e sull'opera di Elsa Morante ad opera di René De Ceccati che mi dispiace perché so che non si dice così però non riesco a pronunciarlo in questo caso cioè non so come dire qua è più il valore affettivo che altro io vedo un volume su Elsa Morante Elsa Morante è la mia autrice italiana preferita ho un rapporto con lei che è quello che molte ora vivono con Elena Ferrante e per me quindi non so come dire questa è una necessità cioè leggere questo libro è veramente per me una necessità e non sono ancora riuscita mi dispiace tantissimo anche perché l'autore ripercorre in tanti punti sia la biografia di Elsa Morante infilandosi in quelle pieghe che secondo me hanno dato vita a tutta la sua immaginazione e alla sua narrazione i suoi motivi che sono molto significativi la biografia di Elsa secondo me è inscindibile dalla sua figura e dalla sua produzione letteraria e allo stesso tempo però riflette molto sulle sue opere quindi devo leggerlo quando è l'unica domanda poi vi faccio vedere anche Uomini è ora di giocare senza falli di Tiziana Ferrario in questo caso mi è stato mandato da Chiarelettere e questo è un libro che mi interessa moltissimo perché riflette insomma Tiziana Ferrario è una giornalista secondo me è estremamente significativa e importante del nostro panorama quantomeno dell'informazione del giornalismo italiano e in questo caso la Ferrario riflette sul ruolo e sulle dinamiche nei ruoli di lavoro del maschilismo come il maschilismo si può scoperchiare come identificarlo e anche quali problemi sono diciamo specifici nei media eccetera e secondo me è estremamente attuale ed estremamente interessante ragionare soprattutto sulla narrazione di alcune cose oltre al vivere in posti di lavoro che sono estremamente maschilisti o comunque di una predominanza sessista molto evidente io ahimè lavoro in pubblicità e la pubblicità ha molte cose in comune con l'informazione quindi anche per questo motivo sono super interessata a leggerlo me lo segno qua e vi dirò anche cosa ne penso quindi cioè un po' il mood di oggi è devo leggerli perché mi interessano per un motivo particolare mi sono arrivati per un motivo particolare e io davvero voglio leggerli però una cosa che vedo fare spesso nei book haul è incuriosire ma non dare delle prospettive realistiche quindi ci tengo davvero tanto a dirvi questo è una sorta di TBR però prima di acquistare cercate dei pareri su questi libri cercate anche di capire se possono essere cose che fanno per voi perché mi dispiacerebbe portarvi all'acquisto senza prima per aver sentito anche un mio parere o comunque un parere di qualcuno che lo ha letto effettivamente ci tengo perché non so io non amo i book haul perché vedo che la gente poi dopo si fionda e poi dopo dice ma non è gran che eh? vabbè quindi insomma ma tanto avete capito rega dai ok passiamo a una serie di saggini che invece mi ha inviato Pluto Press che è questa casa editrice super anarchica super femminista super anticapitalista inglese che io amo molto seguo da anni tra l'altro insomma prima di iniziare io ho letto Feminism Interrotte di Lola Olufemi e io lo trovo un saggio assolutamente ve ne devo parlare perché lo trovo super rilevante però me ne hanno mandato anche una copia di questo quindi super grazie ma mi hanno fatto una proposta assolutamente sulle mie corde partiamo dal primo il primo si chiama To Exist Is To Resist Black Feminism In Europe e sono saggi in inglese ovviamente perché la casa editrice non è italiana e in questo caso è una raccolta di racconti esperienze tematiche piccoli saggi che hanno a che fare con il femminismo di stampo nero in Europa e secondo me ce n'è bisogno perché noi spesso abbiamo fonti americane che vivono però in una società in una realtà molto diversa dalla nostra e noi a un certo punto secondo me c'è sempre la tematica di confrontarsi con ciò che sta a casa nostra perché vediamo sempre le cose un po' lontane non affrontiamo mai il razzismo interiorizzato che in realtà impregna la società europea è una cosa sulla quale io rifletto sempre molto e cerco sempre di mettermi molto in discussione perché penso che alcune dinamiche siano talmente dentro di noi che dobbiamo sradicarle il più possibile e c'è sempre tanto lavoro da fare anche io che mi considero super antirazzista cerco di fare delle decostruzioni ogni giorno quindi insomma in questo volume si riflette sulla figura dell'altro cioè sul decostruire la gerarchia il colonialismo il sessismo l'esplorazione del genere classe eccetera tutto legato a tematiche che hanno a che fare con l'esperienza nera e questo secondo me è super interessante quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo come un po' tutto ciò che vedrete in questa lista ed è questo il problema altro saggio secondo me che può svilupparsi in maniera molto interessante è Behind Closed Doors di Natalie Finnes in questo caso Sex Education Transformed e quindi in questo libro si parla di educazione sessuale andare un po' oltre gli stereotipi con anche un approccio abbastanza radicale da quello che mi sembrano le premesse su cosa significa fare educazione sessuale sull'impatto che ha sulla nostra società soprattutto in questo momento storico perché davvero condivido molto anche ciò che è scritto nel retro copertino ovvero che siamo ancora fermi un po' all'idea che di sesso non si deve parlare che di educazione affettiva e sessuale non si deve parlare o comunque parlarne in forme molto controllate proprio perché ancora c'è questo mito delle api e dei cavoli non lo so insomma non si parla di queste cose insomma questo è un tema che è già saltato fuori molto spesso nelle nostre discussioni e ci sono tante tematiche molto attuali che andrebbero affrontate quindi anche per questo insomma speriamo di leggerlo presto andiamo avanti e parliamo di Mask Off Masculinity Redefined di JJ Bola in questo caso l'autore esplora la mascolinità tossica ma non solo da un punto di vista di definizione di che cosa sia la mascolinità tossica ma in generale l'intento è quello di esplorare il significato di mascolinità nel mondo contemporaneo con tantissimi esempi che non hanno a che fare con l'Occidente insomma solite cose ma esplorando un po' varie culture tradizioni attività eccetera e anche questo ovviamente super interessante anche vedere la prospettiva di che cosa sia un po' la redefinizione del ruolo maschile o in generale di che cosa significhi la mascolinità e quindi lo segniamo l'ultimo titolo che mi hanno inviato invece si chiama Split cioè Class Divide Uncovered di Ben Tippett in questo caso le premesse sono sempre quella che a me sta molto a cuore cioè un ragionamento su che cosa sia la classe ora perché in questo caso noi partiamo sempre da ragionare sull'1% della popolazione l'1% che accumula denaro l'1% che può permettersi assolutamente di arricchirsi e di accumulare beni materiali immateriali e poi c'è tutto il resto della popolazione ma soprattutto anche quella fascia di popolazione estremamente più colpita quella che non ha diritti quella che si rivolge alle banche alimentari i banchi alimentari insomma i sostegni per chi è estremamente in difficoltà ovviamente che non riesce nemmeno a mangiare non ha un lavoro ha delle situazioni familiari estremamente complesse e difficili e quindi insomma sono molto curiosa perché sapete che è un tema che mi sta molto a cuore io penso che in questo momento si ragioni sempre molto poco su questioni di classe su questioni di diritti e su cambiare i nostri modelli economici e sociali so che è un tema molto controverso molto discusso e che trova grande resistenza però spero che anche questo volumetto mi dia qualche spunto in più vedremo ok vado avanti perché ho altre cosine da farvi vedere allora vi faccio vedere questo che è un regalo di Arianna Bonardi che intanto saluto e mi raccomando andate a seguire Arianna perché è un cuore grande e macabro e le si vuole bene per forza e mi ha regalato parole di donna corpo di donna che è una raccolta di scritti di scrittrici arabe e sono super curiosa perché sapete che io ho un legame anche abbastanza profondo con la cultura araba cultura in generale medio orientale e non solo perché sono proprio affascinatissima e quindi sono anche molto curiosa di leggere un po' di scritti direttamente provenienti dalle voci della cultura araba soprattutto femminile sono estremamente estremamente carica anche di questo quindi grazie di nuovo ad Arianna e ve lo faccio vedere è di Mondadori quindi insomma è abbastanza pop è reperibile ovunque e vi farò sapere insomma questo invece è un titolo che avevo ordinato molto tempo fa da Bay Books e mi è arrivato due settimane fa tre settimane fa ovvero James Tiptree Jr. The Double Life of Alice B. Sheldon io non so se voi avete una vaga idea di chi sia James Tiptree comunque è fondamentalmente una delle voci più autorevoli impattanti rivoluzionarie potremmo dire sia della fantascienza ma anche con tante contaminazioni in altri generi letterari e praticamente è stato un autore ne parlo al maschile poi capirete perché è stato un autore che ha sconvolto comunque è stata la base fondante e anche grandissimo ispiratore di personaggi come la Leguin come Philip K. Dick e non solo e poi dopo anni si è scoperto che James Tiptree Jr. in realtà è Alice B. Sheldon quindi era completamente uno pseudonimo per nascondere anche il genere dell'autrice e l'unico modo che aveva per poter raccontare le proprie storie in generale per poter esprimersi è stato attraverso uno pseudonimo questa è una biografia io sono super curiosa perché insomma è una delle figure secondo me più affascinanti una di quelle storie che si continuiamo a pensare che non esistano che è e invece insomma sono molto molto curiosa tra l'altro corredata di un sacco di materiale sia fotografico che insomma scritti eccetera quindi sono super curiosa questo è edito da Sam Martin Press e lo trovate insomma sia usato che eccetera abbastanza facilmente arriva con un po' di calma ve lo dico io penso di averlo ordinato ad agosto poi ho ricevuto ormai da diverso tempo ma ancora non sono riuscita a leggerlo Grand Union di Zadie Smith edito da Mondadorico tra l'altro con questa copertina che io amo perché io amo l'edizione inglese di Zadie Smith sapete che è anche un'autrice che io amo molto c'è una puntata anche in questo caso di antologica dedicata a lei e alla sua opera e ai suoi scritti e questa è una raccolta di storie piccoli e brevi racconti e io amo anche moltissimo leggere Zadie Smith nelle sue opere che non sono solo romanzi lei ha scritto moltissimi saggi legati alla scrittura legati ad altre tematiche ma anche un sacco di racconti e in questo caso io sono super super curiosa insomma prima o poi succederà anche perché in questi casi riesce ad essere quasi più sperimentale che nei suoi romanzi ed è tutto un dire quindi ok adesso passiamo a due case editrici che mi hanno mandato cose molto interessanti e parto da Fandango che mi ha mandato due libri di Virginie Despentes io dico Despentes e non si dice così perdonatemi in questo caso l'ultimo che è in uscita a breve o sta uscendo in questo periodo cioè Scopami che in realtà però è molto antecedente a King Kong Theory allora Virginie Despentes penso sia una delle voci più autorevoli del femminismo europeo soprattutto in campo letterario per tanti motivi queste due opere che sono romanzi ragionano uno su libertà sessuale violenza conseguenze anche che ha la violenza sulla vita delle persone sul sex work e non solo ma anche ai legami femminili questo sarà un libro che leggerò sicuramente molto più tranquillamente che King Kong Theory perché King Kong Theory ha a che fare con la violenza sessuale e io faccio grande fatica a leggere opere di questo tipo in realtà vi devo parlare anche di un altro titolo da diversi mesi che per me è uno dei libri dell'anno ma non riesco faccio una fatica esagerata e quindi insomma mi ci avvicinerò con grande cautela però penso sia un libro necessario comunque lo è sicuramente per narrare alcune dinamiche alcune vicende ve ne parlerò ve ne parlerò appena riesco a leggerlo invece Edizioni E.O. molto gentilmente mi ha mandato due cosine secondo me molto adatte a me ovvero Segni e Uova e Tettagna partiamo da questo mattonazzo pensavo fosse la metà Segni e Uova è un romanzo che racconta la figura della donna nel Giappone contemporaneo potremmo dire o comunque degli episodi che hanno a che fare con alcune dinamiche femminili legate a come la società giapponese vede le donne e si rapporta con le donne in questo caso si parla di estetica si parla di rapporto madre figlia si parla delle complessità anche nell'affermazione di se stesse e sono molto 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 curiosa anche se è un discreto insomma tomo cioè ne ho sentito parlare abbastanza bene ovunque quindi anche per questo insomma questo romanzo è reperibile in italiano quindi insomma abbastanza accessibile e poi abbiamo Tettagna che è una delle cose che più mi ha fatto ridere appena l'ho letto per il titolo ma perché sono stupida ma Patrizia De Luca in questo volume si immagina che ci sia quasi una società nei pressi di Napoli peraltro in questa città in questa collina chiamata Tettagna dove si reimmagina una società dove invece che governare il patriarcato ci sono cose totalmente ribaltate ovviamente ribaltate in una maniera abbastanza grottesca ma penso sia voluto e insomma indaga i rapporti familiari sociali di questa piccola comunità e di cosa voglia dire lo stravolgimento delle condizioni sono super curiosa perché secondo me è estremamente divertente può essere estremamente divertente questo volume o comunque farci ragionare in una maniera un po' ironica anche su alcune dinamiche che viviamo in realtà tutti i giorni vediamo sono super curiosa passo ad altri saggini così ce li scaviamo dalle ovai in questo caso abbiamo Humankind A Hopeful History di Rutger Bregman che non so se lo conoscete ma è quello che ha scritto Utopia for Realist Utopia per Realistiche che io ho trovato in realtà molto interessante alcuni spunti estremamente validi altri un po' un po' così però insomma è stato interessante una lettura interessante in questo caso l'autore esplora un po' il concetto insomma che l'umanità che viene sempre narrata come malvagia nella sua natura o comunque che sia intrinsecamente portata al male non sia così che sia invece portata in realtà a cose positive e che siano invece altri fattori che la portano alla competizione eccetera eccetera la supremazia eccetera quindi insomma è una prospettiva secondo me interessante che può dare degli spunti interessanti sulla cooperazione sulla dinamica sociale e sui vari rapporti che si intessano tra le varie fazioni chiamiamole così anche questo che mi è stato mandato gentilmente da Bloomsbury mi incuriosisce ce l'ho lì fermino da mesi prima o poi lo recuperiamo poi ho preso ormai saranno 3-4 mesi forse anche di più il prezzo della disuguaglianza di Joseph Stiglitz edito da Inaudi l'ho comprato perché era in offerta penso e quindi insomma mi ci sono ficcata perché era un po' che ci girava attorno Joseph Stiglitz è Nobel per l'economia del 2001 2002 2001 e ragiona sul sul modello americano in primis quindi già di per sé mi interessa il giusto il modello americano ma è tutto il discorso che ci ruota attorno ovvero come il modello economico capitalista non sia sostenibile soprattutto per la maggioranza delle persone creando delle disuguaglianze inaccettabili o comunque che noi accettiamo e facciamo finta di niente e quindi insomma lavorare per l'1% e non per il 99% perché ricordo che chi ci guadagna dal capitalismo e da questi tipi di modelli economici è l'1% tutti gli altri no e in questo volume ovviamente ci vengono spiegati le conseguenze e il prezzo che si paga per questa disuguaglianza sociale ed economica molto molto curiosa anche di questo io e me mi sto radicalizzando moltissimo su alcuni temi come penso abbiate notato in questi mesi o comunque cerco di parlarne sempre di più anche se so che sono temi molto controversi e che suscitano sempre un po' di stranezza altro titolo invece è non esistono piccole storie di Johannes Buchler che io penso di avere fermo da un po' di mesi mi dispiace molto perché è tantissimo tempo che lo voglio leggere è edito da People e in questo caso insomma è un personaggio estremamente seguito su Twitter e racconta fatti di storie fatti insomma di attualità letteratura e non solo con molti pochi caratteri utilizzando quindi pochi caratteri di Twitter io sono molto curiosa e mi aveva colpito perché appunto si ragiona su tantissime questioni che hanno a che fare hanno delle ripercussioni sulla nostra attualità ci sono tantissime storie che hanno a che fare con temi molto caldi nella nostra realtà come può essere il neofascismo l'antifascismo il terrorismo la mafia storie di uomini e di donne che hanno a che fare con questioni personali questioni di razza di classe eccetera niente quindi anche questo ce l'ho speriamo di leggere il prima possibile vedete cioè se questo fosse un book haul cioè io io non so fare sta roba cioè sono completamente netta vabbè ma voi mi seguite non lo so perché va bene adesso vi parlo invece di due titoli che ho preso in realtà nello scorso lockdown uno e l'altro invece mi deve arrivare non ho ancora nulla perché ahimè ho fatto un ordine da book dealer ed è colpa mia pazza non ho nemmeno la mail di conferma vabbè ok stiamo parlando di Bernardine Evaristo è un'autrice che io devo approfondire tantissimo ovviamente l'ho conosciuta per l'episodio davvero allucinante dell'anno scorso quando venne assegnato il Man Booker Prize a metà tra lei e Margaret Atwood che fu uno degli episodi più aggiaccianti e ridicoli della storia del Booker Prize ma ok poi tra l'altro chiariamoci io a Margaret Atwood voglio un bene assurdo nonostante alcune limiti che può avere ovviamente come ogni persona ma i testamenti eh vabbè ok e abbiamo qua Mr. Loverman che io ho preso ovviamente dalla mia libreria preferita di bollo cioè Igor che me l'ha consegnato a casa e in questo caso sono molto curiosa perché si parla di una coppia di rapporti tra una coppia molto particolare in cui il marito è gay e ci sono tanti conflitti interiori tra loro due vabbè curiosissima e poi ho preso anche dalla libreria delle donne che mi deve arrivare perché ho fatto l'ordine questa settimana ragazza donna altro che è appena uscito per Big Sur invece questo è edito da Fandango e insomma entrambi li voglio leggere moltissimo quindi spero di farlo nel periodo natalizio anche se ho questa mezza idea di mettere ragazza donna altro come libro del gruppo di lettura e insomma del Miss Fiction Book Club e fatemi sapere se vi può interessare potrebbe essere un titolo interessante andiamo un pochino visto che siamo sempre in zona ad altri romanzi che hanno a che fare e poi non a che fare vabbè in questo caso ho Frankie Stein o Frankie Stein per fare citazioni colte una storia d'amore di Jeanette Winterson che mi ha mandato gentilmente Mondadori in questo caso è un libro molto strano perché ragiona sul transumanesimo sull'intelligenza artificiale e su connessioni lontane nel tempo che riraccontano e si reimmaginano da un lato il mito di Frankenstein di Mary Shelley e poi altre tematiche che hanno invece a che fare con l'attualità io ve lo dico sono molto curiosa ma soprattutto perché si parla di Frankenstein che è una delle mie opere preferite perché Santa Mary Shelley di tutto ciò che le dobbiamo però insomma non lo so mi spaventa anche un pochino e vabbè vedremo insomma vedremo nei prossimi mesi ok poi passate ve lo giuro che siamo quasi alla fine allora in questo caso ordinino che ho fatto in questi giorni da zona 42 zona 42 che è una casa editrice indipendente italiana che pubblica moltissime cose che hanno a che fare col fantastico col fantasy con la distopia con la fantascienza insomma tante cose ho preso due librini uno che ho già iniziato e sono praticamente a metà che si chiama Madre delle ossa di David Demchuk perché mi hanno scritto che si pronuncia Demchuk tradotto da Claudia Dora Stanti è una raccolta di racconti che prende spunto tutto da episodi soprattutto raccontati dall'infanzia dalla nonna dell'autore comunque da parenti dell'autore che riprendono la mitologia russa slava ucraina e non solo e io ho un grande grande punto debole quando tu scrivi folclore slavo mitologia russa mitologia io non capisco più niente perché proprio cioè per me è mettere nel carrello un qualcosa o comprare qualcosa perché è una delle mie grandissime passioni anche se non la conosco nemmeno così bene ma una cosa che adoro della mitologia che io chiamo slava in generale però prendetela come tutta l'area che va dai balcani in poi è davvero comunque est europea ok forse più corretto la dimensione la dimensione che crea è sempre cupa oscura abbastanza grottesca e poi a me questa cosa ha sempre affascinato sono sempre stata una mega fan da Baba Yaga a tutto il resto quindi insomma ne abbiamo parlato anche un pochetto nei fantasy talks ma non solo e insomma spero di parlarvene presto perché mi sta veramente piacendo moltissimo e inquietantissimo questo libro invece ho preso anche Avrai i miei occhi di Nicoletta Vallorani che ho seguito in una puntata dopo vi racconto anche altre cose in una puntata un bellissimo talk su donne fantastico che hanno fatto grazie alla libreria Colibri dove c'era appunto Nicoletta Vallorani ospite insomma tra una roba e l'altra vado ad esplorare il sito di Zona 42 trovo Avrai i miei occhi che mi ha colpita subito mi hanno consigliato anche Eva quindi appena finisco questo ve lo giuro compro anche quello però Avrai i miei occhi è una storia che poi distopica Avrai i miei occhi racconta del ritrovamento di una serie di cadaveri di donne nelle periferie di Milano e soprattutto dell'indagine che sta dietro al ritrovamento di questi corpi soprattutto per capire che cosa sono qual è la loro natura e perché sono state uccise se sono state prima ospiti di un laboratorio cavi insomma perché ci sono quelle donne in queste condizioni ed è un distopico perché fondamentalmente racconta la nostra società quella dove ci sono disuguaglianze assolute e infatti è una distopia un po' molto realista va bene e niente a me aspira molto quindi appena avrò finito anche Demchuk mi butterò anche su questo allora poi vi faccio vedere una cosina che mi è arrivata invece da Penguin che è A Deadly Education di Naomi Novik che a me piace molto dirla in inglese cioè Naomi Novik cioè una cosa che mi fa impazzire ma sono scema completamente ma io infatti continuo ma perché mi seguite vabbè anyway questo è una sorta di fantasy ambientato in una scuola di magia così devo dire che sono molto resti a leggere in realtà perché ho sentito solo pareri super negativi cioè sul fatto che sia un'opera totalmente derivativa che non abbia alcuno spunto originale eccetera ma io nonostante questo la voglio leggere perché non lo so ma è scuola di magia cioè mi piacerà sempre anche se poi è una merda non lo so in ogni caso ce ne parlano veramente tutti male quindi io faccio un sacco di premesse però mi piace molto l'edizione e la sua semplicità io con la Novik poi ho questa sorta di rapporto ultraconflittuale uprooted cioè cuore oscuro credo in italiano vabbè a me era piaciuto molto all'inizio poi ho iniziato a volerlo proprio sbattere contro il muro perché lo trovo una perculata fotonica bello bellissimo a me poi anche lì folklore slavo eccetera we like but non si muoveva da lì continuava ad andare avanti arrivi alla fine e dice ok quindi va bene poi non ho letto spinning silver perché a me di tremottino non me ne frega assolutamente niente quindi questo è un po' il vediamo cosa cosa succede vabbè io lo leggo poi al massimo è un libro brutto e ne parliamo male per i prossimi mesi allora adesso vi faccio vedere anche altri acquisti ovvero questi tre volumi che io ho preso da Abe Editore che è l'editore che penso faccia le edizioni più belle che esistano o comunque con una cura grafica che a me veramente fanno sempre commuovere in questo caso sono Draculea che è Figli delle Tenebre e questa è una raccolta di racconti che hanno tutti a che fare con la figura o di Dracula o del vampiro vabbè è un'edizione fotonica adesso io non so se si vedrà questa sorta di effetti in copertina vabbè io da grafica piango tutte le volte piango quando vedo questi elaborati e in più è assolutamente illustrato insomma è fighissima ok e appena l'ho visto ho detto questa deve essere mia e ancora non l'ho letta perché sono completamente scema dopodiché abbiamo invece la casa infestata o comunque la storia di in questo caso altro capolavoro secondo me dei materiali grafici vabbè una figata fotonica place du lion d'or una storia di fantasmi a cura di anzi si a cura di Fabio Camilletti e anche qua analizziamo il mito della casa dei fantasmi insomma la casa infestata super super curiosa perché ovviamente anche questo lo voglio leggere molto presto e poi potevo fermarmi qua dopo aver visto questo cioè Follettiana assolutamente no quindi ho comprato anche questo e anche Follettiana proprio come Dracula è una raccolta di racconti che hanno a che fare con spiriti folletti fate e quant'altro insomma di essere dispettosi che soprattutto le follette le follette ciao vabbè soprattutto insomma Folletti e quant'altro dalle fiabe tradizionali insomma un po' riviste da diversi autori a nuove invenzioni cioè ma porca miseria quanto è figa anche quest'edizione basta non si possono comprare libri perché sono fighi infatti questo sarà anche figo non ho dubbio come tutte le cose che pubblica Abe titoli che mancano sono pochi nel senso che ho fatto un altro ordine che ancora mi deve arrivare il primo è Donne Fantastico di Mimesis Edizioni che ho preso dopo lo stesso dopo aver seguito la stessa live della quale vi parlavo legata a insomma avrei i miei occhi in generale a Nicoletta Vallorani e a Zona 42 che ne parlavano e ne discutevano insieme e ovviamente io ci tengo molto alla redefinizione del canone e a questioni di questo tipo comunque approfondire Donne nel Fantastico soprattutto perché è stato fatto un grande lavoro anche nella traduzione dell'edizione italiana di Le Visionarie e in generale di altre tematiche quindi insomma sono sempre cose che a me interessano in più ho preso anche Elogio al Margine cioè Scrivere al Buio che è un'intervista di Bellux cioè che viene fatta a Bellux che è una delle più importanti del Novecento a mio parere e in generale soprattutto legata a questioni anticolonialiste di razza e di etnia eccetera è fatta da Maria Naidotti ed è appena stato pubblicato da Tamo Edizioni ve ne parlerò presto perché mi incuriosisce moltissimo è un'intervista che ha a che fare sia sulla sua produzione quindi con la sua produzione cosa è il significato eccetera anche sul significato dell'essere una nera banalmente e il suo rapporto anche con il femminismo sono super curiosa quindi non vedo l'ora di averlo tra le mie mani allora avrei altra roba mi sono cioè secondo me boh vi ho fatto vedere talmente tanta roba che ciao e quindi ci fermiamo qua quindi direi che siamo arrivati in fondo a questo delirio e cioè io non so fare queste sono le robe che io non so fare perché secondo me sono tutte robe un po' a caso quindi io spero che mi perdonerete per oggi però dovevo esternare questo mio disagio perché ho tutte queste robe che come vedete sono delle figate allucinanti o comunque sono super interessanti e io non riesco a leggere perché io non ho un clone non ho tipo qualcuno che mi mantenga solo per leggere ma devo lavorare pagare le bollette e stare sotto questo sistema capitalistico che valorizza la produzione sull'interesse vabbè ma comunque niente non so di cosa ve ne dovete fare di questo video prendetelo boh con le pinze o comunque fateci quello che volete insomma è un bucole è una tbr insomma ci sono tante cose fighe secondo me che voglio leggere non c'ho mai il tempo e insomma non so cosa dire di questo video spero solo che insomma qualche titolo spero solo di recuperare un sacco di questi titoli nel breve periodo comunque andare a fine anno e parlarvene perché secondo me ci sono tante cose che sono ultravalide ed estremamente interessanti quindi niente io direi che per oggi forse è tutto siamo arrivati in fondo a questo delirio abbiate pazienza con me come sempre io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qua e direi che per oggi è tutto e per tutto il resto noi ci vediamo invece al prossimo video ciao